Da oggi è ufficiale il suo ingresso nel gruppo della Lega, cosa l'ha portato a lasciare la lista civica? Beh, io ero iscritto alla Lega come partito già all'indomani delle elezioni del 2019. Mi sembrava giusto mantenere una certa indipendenza dal gruppo della Lega, in quanto ero stato eletto come candidato sindaco di tutto il centro-destra. Ora che ormai sono passati più di due anni, ci si avvicina alla metà dell'amministrazione, mi sembrava anche giusto dare un contributo direttamente al partito al quale sono iscritto. C'è un po' un riavvicinamento col gruppo consigliere del centro-destra, lei rientra nella Lega, si sta un po' cercando di riformare l'unità in tutto il centro-destra? Beh, io credo che le divisioni non aiutino e quindi tutto quello che può portare verso una maggior coesione, una maggior collaborazione è sempre benvenuto. Finisce l'esperienza della sua lista civica, quella che porta verso nome, come coach è entrato in Fratelli d'Italia, che bilancio fa e se le dispiace? Beh, un po' dispiace, ma quelle che sono state le idee che hanno portato alla formazione di questa lista, al grosso risultato che ebbe la lista, ricordiamo che insomma ha espresso un consigliere comunale, ebbe più consensi di un partito storico come Forza Italia. Dicevo, le idee, i principi che ci hanno mosso continuano nelle persone che ne hanno fatto parte e che ne hanno fatto parte. Grazie.